Abbiamo aumentato la pubblicità del 47% È stata una strategia giusta Comunque io non te lo do per meno di 25 milioni Famo 16 milioni? Riparimi un po' del giocatore che hai comprato Come si chiama? Castellano? Eh, forte, fenomeno Tu chi c'hai? Zanabria? Ma dove vai con Zanabria? Ma sono andato a vedere Torino Odio ammettere che Questa che avete visto è la prima metà del video che ho pubblicato su TikTok ieri Video che vi consiglio assolutamente di vedere perché potreste farvi delle belle risate Per seguirmi su TikTok cliccate sul primo link che trovate in descrizione Adesso possiamo parlare di calcio Perché c'è stata una partita di calcio La terza amichevole del ritiro di Auronzo di Cadore Lazio-Triestina come di consueto Ogni anno ad Auronzo si gioca Lazio-Triestina I club sono molto amici così come sono amiche le tifoserie La partita finisce 4-0 Segna Luis Alberto un gol al volo dal limite dell'area molto bello dopo pochi minuti Il 2-0 invece lo segna Ciro Immobile anche lui con un bel destro all'angolino dal limite dell'area di rigore Dopo una bella azione tra lui e Pedro Rodriguez il bollito E poi nel secondo tempo segna il gol del 3-0 Zaccagni Sì segna il gol del 3-0 Zaccagni e poi il 4-0 Io ho visto cose che voi umani non potete immaginare Ho visto Momo Fares fare un cross E Matteo Cancellieri colpire il pallone di testa e segnare Io ho visto questo Io non avrei mai immaginato di vedere questo nella mia vita Invece l'ho visto L'ho visto circa una mezz'oretta fa E in questo momento io mi sento traumatizzato Sono traumatizzato ragazzi Cioè Fares dell'altro oggi gioca un buonissimo secondo tempo Ho sbagliato un paio di cose verso fine partita Però qual è il discorso ragazzi? Allora io non è che adesso voglio elogiare Fares Tutt'altro, tutt'altro Non capisco perché sia ancora lì Questo è quello che mi chiedo Così come anche altri giocatori Però il secondo tempo di Fares vi fa capire Più che altro perché serva un terzino sinistro di piede mancino Molto semplice Cioè ragazzi ma è Da quanto tempo è che lo diciamo? Da quanto tempo è che la Lazio ha bisogno di un terzino sinistro vero di piede mancino? Non soltanto per l'assist del gol del 4-0 Cross perfetto e incornata perfetta di cancellieri Ma anche per la verticalizzazione che fa 5 minuti prima in cui favorisce l'inserimento di Sana Fernandez Invece Marusic ogni volta che riceve palla Si ritrova praticamente spalle alla linea del fallo laterale Perché stoppa il pallone e se lo porta verso il destro E così tu perdi campo Perdi campo e perdi anche la possibilità di giocare più velocemente il pallone È questo il discorso Cioè io non voglio essere ripetitivo perché non voglio essere ripetitivo Però io in questo video mi troverò ad essere molto ripetitivo Su argomenti che portiamo avanti da mesi se non da anni La Lazio ha bisogno necessariamente di un terzino sinistro di piede mancino Poi il fatto che non si voglia investire per il terzino sinistro Quest'anno può essere anche comprensibile dal momento che devi prendere il play titolare Perché devi prendere il play titolare È inutile che continui a sentir dire che nessuno ha il diritto di togliere il posto a Cataldi Ma quante cazzate devo sentire Serve il play titolare e serve anche il sostituto Remininkovic Quindi è giusto che si investano 40-45 milioni per questi due calciatori E sono stati investiti giustamente 15 milioni anche per il vice Immobile Perché Immobile lo scorso anno ha saltato praticamente metà stagione Quindi è giusto che la Lazio decida di investire per questi tre calciatori Però anche il terzino sinistro è molto importante Continuo a ripetere poi su Marcos Antonio Che la storiella del calciatore Bassetto e Gracile È una storiella che non sta più in piedi Questo calciatore recupera tanti palloni Recupera più palloni lui di Cataldi Lo dico un'altra volta Recupera più palloni lui di Cataldi Perché tu puoi essere anche basso quanto vuoi Gracile quanto vuoi Che poi Marcos Antonio non è così gracile come si vuole far passare Però la differenza la fa la testa L'intelligenza nel trovare il giusto posizionamento L'intelligenza nel andare in contrasto Quando è il momento giusto Ok? E Marcos Antonio è proprio questo È proprio questo Quindi io continuerò a ripeterlo all'infinito Ok? Basta con questa storiella del calciatore Che fisicamente non è adatto a questi livelli Ok? Basta Basta Perché recupera più palloni lui di Cataldi E oggi ne è l'ennesima riprova Poi ripeto Sì, ok? Abbiamo giocato contro la Roncia di Cadore Contro il Primorcio Contro la Tristina Ma questo mio discorso vale anche per le partite Che abbiamo visto in campionato Lo scorso anno Ok? Non vale per Lazio-Tristina Ok? Perché alla fine, vedete Io non sto commentando Lazio-Tristina Sto sfruttando quello che abbiamo visto Oggi Per fare dei discorsi più ampi Ok? Sana Fernandez Perché mi dà l'impressione Che sia più Maturo A livello tattico di Luca Romero Proprio per il posizionamento Proprio per il lavoro che svolge Senza palla Per i movimenti che fa Senza palla Quando ha la palla la Lazio E quando hanno la palla gli avversari Ok? Per questo lo vedo più maturo Poi Insomma Vediamo quest'anno Come qualcosa riuscirà a dimostrare In primavera 1 Però io sono molto contento In questo momento Di avere in rosa Sana Fernandez Per quanto riguarda il calciomercato Ragazzi Volevo aprire una piccola parentesi Perché ovviamente Sembra che si stiano Delineando un po' gli acquisti Adesso è uscito fuori Azzon Udoi Sembra che ci sia una trattativa Con il Chelsea Calciatore Molto giovane Che è già stato allenato da Sarri Nelle ultime stagioni Non è che abbia fatto benissimo Però come sesto calciatore offensivo Potrebbe essere interessante In questo momento io penso che la priorità debba essere Ricci Continuerò a ripeterlo all'infinito In questo momento la priorità deve essere Ricci E il sostituto Rimini in Kovic Con il rinnovo di Zielinski Io non so che tipo di mezzala Possa prendere la Lazio E questa è l'unica cosa che mi preoccupa Veramente in questo momento La mezzala A me in questo momento Preoccupa soprattutto la mezzala E poi il discorso sul terzino sinistro Che ho fatto insomma Nella prima parte Nella prima parte del video Vediamo I tempi iniziano a stringere E se lo dico io Vuol dire tanto Vuol dire tanto Ditemi cosa ne pensate nei commenti Mettete un like se vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Se per caso non è ancora fatto Noi ci vediamo successivamente Ciao ragazzi Forza Lazio Grazie a tutti